Oltre 600 denunce, 633 per l'esattezza, sono scattate a seguito del Maxi Rave Party non autorizzato nell'area mineraria di San Giovanni Valdarno, al quale hanno preso parte circa 2000 giovani, sequestrati fiumi di sostanza stupefacente. I partecipanti erano arrivati da tutta Italia, alcuni addirittura dall'estero per prendere parte al rave, iniziato dalla primissima mattina del 16 settembre ed arrivato sino alla sera alle 19, tutti giovanissimi, alcuni anche i 15 anni. Una giornata dunque non stop di music e sballo, al termine della quale i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno denunciato gli oltre 600 giovani per l'invasione nei terreni ed edifici, ben 100 invece militari impiegati nei vari turni per monitorare l'evento. Diversi anche i sequestri di stupefacenti, i militari stangiovannesi hanno infatti segnalato 15 assuntori. A loro sono stati sequestrati complessivamente 33,9 g di marijuana, 18 g di hashish, 3,5 g di cocaina, 0,5 g di cocaina, 0,6 g di eroina ed infine 0,5 g di MDMA. Le sostanze stupefacenti sono state scovate con l'aiuto delle unità cinofile al lavoro i cani Batman, Laio e Asco. Infine un ragazzo nella giornata di domenica ha rischiato un arresto cardiaco per l'uso smodato di stupefacenti e stato salvato dal personale presente del 118, che ha immediatamente somministrato i farmaci idonei. Altri due ragazzi si sono presentati invece all'ospedale di Montevarchi con ferite da taglio. I militari della stazione di Castelnuovo dei Sabbioni infine hanno identificato uno degli organizzatori. Si tratta di un ragazzo di Cavriglia che è stato denunciato per aver organizzato una manifestazione non autorizzata.